La sera seguiamo trovà in quattro amici un poco sciopà e uno è il gabutalà, nemmo in montagna partimo domani ma in quattro non siamo abbastanza, nemmo coinvolto la città di Lanza non solo qui ad Esulian ma anche a Lugo, Pogolo e Maran in venti, trenta e quaranta e anche in cinquanta seguiamo trovà e insieme siamo partì, cosa è noi spalla a camminare in venti, trenta e quaranta e anche in cinquanta seguiamo trovà e insieme siamo partì, cosa è noi spalla a camminare dai ai satese, zai quattro ai cinque, se parte a Corriera non spetta poi zaini, bastoni e scarponi e tanto sono ma chi non fa far col sole e la piova e la neve, nessuno ne ferma, noi siamo del camp in venti, trenta e quaranta e anche in cinquanta seguiamo trovà e insieme siamo partì, cosa è noi spalla a camminare in venti, trenta e quattro ai cinquanta e anche in cinquanta seguiamo trovà e insieme siamo partì, cosa è noi spalla a camminare e adesso con tanti putei se vai in montagna nei posti più bei e insieme con tanta amicizia in mezzo a natura camminiamo se qua che vedemo e benesse che il buon Dio rega donà in trenta e quaranta e cinquanta e anche in ottanta seguiamo trovà e insieme felici e contenti con il piedo lentissimo tornà in trenta e quaranta e cinquanta e anche in ottanta seguiamo trovà e insieme felici e contenti con il piedo lentissimo tornà e insieme felici e contenti con il piedo lentissimo tornà e insieme felici e contenti con il piedo lentissimo tornà e insieme felici e contenti con il piedo lentissimo tornà Grazie a tutti